Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, buon anno a tutti! E non potevo iniziare quest'anno con un unboxing tutto dedicato ai miei amori Barbie e Ken Sì, perché se le de-boxi a capodanno le de-boxerò per tutto l'anno, yeee! Ok, allora questo è il veicolo da mare di Barbie e con Ken anche incluso Che ho preso al Toy Center, oddio non mi ricordo, mi sembra sulle 30 più o meno Allora, la scatola è fatta in questo modo, abbiamo la parte in cartoncino interna Che ci presenta una bellissima spiaggia di Malibu, ma fantastica quanto vorrei essere qui dietro Poi qui abbiamo un artwork di Barbie e Nikki e la Dream House Adventure Consigliata dai tre anni su All'alto abbiamo ancora Barbie e Nikki e predominante di sfondo rosa Mentre dietro abbiamo una panoramica esaustiva del prodotto Quindi Barbie Ken è il veicolo, perché penso sia una Jeep, qua c'è scritto veicolo da spiaggia E infine qua ancora il logo Barbie e sopra una dolcissima Barbie che ci fa il cuoricino con il suo logo Adesso io vado ad aprire questi due splendori e poi li vedremo nei dettagli, quindi a tra pochissimo Eccoci qua, questa è l'auto, non potete notare, dentro è tutta rosa Quindi fatta in questo modo, lo sterzo è nero C'è anche una specie di CD Sono giusto due posti Qua è fatta in questo modo, ci sono le cinture E avrà un cambio automatico perché non vedo le marce, quindi sarà a cambio automatico Qua è tutta aperta, mentre la parte esterna è questo azzurro acqua, guarda acqua Qua è rosa, con i fari accesi Poi ha i cerchi appunto rosa sempre E dietro è fatto in questo modo In dotazione, come unico accessorio, arrivano gli specchietti in questa bustina Che vanno appunto messi a ambedue i lati Per quanto riguarda Barbie e Ken, inclusi, abbiamo Barbie che è sempre Barbie Millie Mood Però ha i capelli leggermente, non del classico biondo, ma sono un biondo cenere un po' più scuretto Ha del rossetto appunto fucsia sulle labbra, del mascara e del nero e del leggerissimo blush rosa sulle guance L'outfit è tutto un unico pezzo Ha questa parte qui che è fucsia, mentre il corpetto di sopra è viola tutto brillantinoso E la gonna invece ha sempre una base fucsia un po' più chiara rispetto al corpetto E tantissimi fiorellini di varia colorazione Ha questi piccoli sandali con tacco fucsia allegati E ovviamente i suoi movimenti sono basici, basso, alto e esterno Quindi il corpo classico delle fashionistas Per quanto riguarda Ken ha gli stessi movimenti di Barbie E il classico bellissimo Ken Carson Ha questa t-shirt di due colori che è grigia ai lati Mentre è verde acqua sulle spalline E poi ha questi jeans shirt Con questo effetto strappo corti E delle scarpette grigie Molto carini Proprio look per andare in spiaggia Semplici e carini come piacciono a me E con questi due io vi auguro veramente un anno favoloso Che sia positivo in salute per tutti Vi abbraccio, vi do appuntamento al prossimo video Bacioni, ciao e ancora buon anno